buon salve sera notte giorno a tutti signori benvenuti in questo nuovo live dove ho letteralmente distrutto la casa bene perchè ho distrutto i blocchi e non ho i blocchi caccio di bug bene ragazzi intanto sono in compagnia di lovo has changed e rendi penna il mio tumi di penna l'ho mutato non so per quale motivo devo andare a fare la spesa non mi ricordo ragazzi benvenuti siamo in minecraft come al solito c'ho il pappagallino che fischia e cosa fare oggi come al solito non lo so no scherzo oggi ho un paio di idee però prima di tutto lo prima di fruttolo devo mettere il pavimento ne abbiamo due non ne abbiamo due ma un crafting mi da anche i blocchi indietro quelli fatti tutto allora dove ce l'hai dimmi dove ce l'hai nella cesta d'oro no di diamante adesso è di diamante ah intanto qua fuori ragazzi il portale della tua light forest l'ho abbellito leggermente ah che bello allora dicevi white point penna ok dove nella cesta di diamante vedi dovrebbe esserci l'hand crafting table allora hand crafting table la piazzichiamo un attimo a terra devi avere però i livelli eh perché te lo fa fare come se incantassi una cosa ecco per intenderci eh no non va eh perché della mod non di tutto se lo do ma io forse del marble dovrei averlo controllando le chest d'oro forse del marble ce l'ho uno ah no niente vabbè come non detto dai eh oh e quando mo che finisco di renderizzare il video ce la vado a prendere io tanche te no ma dovrei averlo forse a casa adesso vediamo oh cancel white point casa subito subito perché oggi c'ho un bel po' di cose da fare allora dovrei avere io del marble qua ah intanto ragazzi vi ricordate che io ho avevo ho ancora una turtle mi ha scavato e mi ha trovato un sacco di roba mi ha trovato ben 23 quartz e 21 quartz dust poi un sacco di roba da cuocere che ora faremo anche un piccolo impianto che da qui portiamo la roba a cuocere allora vediamo un po' il marble eh marble è una 2005 io stavo stavo facendo il money grabber di marble con te quando è una 2000 eh vabbè ok voilà via questi tanche te allora 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 qui se vi ricordate abbiamo un sacco di roba abbiamo tre picconi abbiamo un piccone della fortuna 2 un piccone efficiency 1 e bronze pickaxe cos'è che devo fare? ah si mettere via il laser che non serve il fabricator potrebbe servire poi abbiamo un altro zainetto vuoto e poi abbiamo l'ender punch che nell'ender punch abbiamo ah è vero ragazzi devo smistare tutta la roba che abbiamo trovato ieri tutta la roba che roba l'abbiamo trovata eh allora l'ape l'andiamo a mettere nelle api come è normale e giusto che sia poi abbiamo una mela d'oro che ce la teniamo qui con calma allora abbiamo i lingotti li scendiamo eh le slime ball potrebbero servire questo lo scendiamo scendiamo questo lo scendiamo questi li scendiamo e direi che tutto il resto lo possiamo lasciare qua del quarzo tutto il resto è roba che per il momento non mi serve allora qua io ho fatto cosa ho messo una autocrafting qua la fabricator e qua tutta la roba che c'era dentro quella roba lì adesso vi faccio vedere poi questi li andiamo a mettere di là che non servono quello che c'era qua l'ho messo di là anche il bronzo perchè qua è più facile craftare bene poi andiamo a mettere chi drento chi questa roba qui strana le slime ball tutta questa roba qui e le api fuori allora rendi mi sa che fai eco allora dicevo davvero aspetta che apro un file text ragazzi io dovrei fare delle api perchè mi serve un pollen eccetera e ho qua le combinazioni delle api che dovremmo riuscire a fare tutti insieme appassionatamente allora dovremmo fare con una common noi abbiamo common in poche parole mi serve la common e la cultivate come si fa la cultivate però non lo so ecco cosa mi manca la cultivate la cultivate dovrebbe venire con madeus e mischiandola con la in poche parole se non mi sbaglio era rosso e blu porca loggia qua che abbiamo rosso ah qua abbiamo le rocchi deficienti che non mi droppano un kaiser e le water queen mi mancano delle api mi mancano le api quelle semplici però ah le valiant che pirla ecchi telechi ecchi telechi allora via queste e ci mettiamo la madeus e la valiant qui ci mettiamo la valiant e la madeus e dovrebbe poter funzionare no perché non funziona perché vanno in un altro bioma perfetto it's the perfect allora noi abbiamo però se vi ricordate questa roba chi pampete ora questa roba chi non può funzionare perché ci mancano i cosi come si fanno i cosi ci penso mi con questi qui noi li andiamo a centrifugare abbiamo una centrifuga da qualche parte l'avevamo fatta mi ricordo che l'avessimo fatta perché mi va a stile cammello sto cosa oggi allora centrifuga eccitela chi voilà qua abbiamo uno squeezer le centrifughe dove sono di là vabbè possiamo metterlo anche qua non fa niente non fa nada anche te per il momento allora ci piazzichiamo questo dentro e dobbiamo dargli corrente abbiamo 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 una wrench da qualche parte yeah e con la wrench giriamo questo voilà gli mettiamo del carbone e dovrebbe funzionare perfetto ragazzi non continuate a dire basta api perché io in questa serie ancora le api non le ho mai fatte e senza le api non posso fare tutto il resto per cui se non vi piacciono le api ragazzi non asciugate l'anima con minecraft perché senza minecraft non posso fare nulla e non continuate a dire che va a scatti perché sto guardando in live e non sta scattando per niente no no è perfetto sto controllando anche io allora cuociamo qui adesso lo scrivo anche in chat allora dai muoviti muovese e questo qua allora in poche parole a me serviva a me serviva questo coso chi vediamo un po' in che bioma vanno ok 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 ah no ma che pirla che sono nel bioma si vede nella pirletta nella cosa lì nella bussola flower 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 nella bussola si vede sono un grandissimo pirla perfetto dovrei craftare una bussola allora intanto cosa volevo fare oggi prima di fare le api le api le faremo dopo tanto ragazzi dopo le faccio lo stesso le api non è che ho smesso qua cosa abbiamo due valvole che potrebbero servire allora dicevo dobbiamo fare una cosa strana e un casino c'ho il cane che adesso gli stacco le zampe allora io vorrei fare una cosa che non ho mai fatto e dai per favore il come si chiama rhein so che per la pio adesso ammazzo il cane il rhein maker eh chi te lo chi allora harden casing si fa con quattro diamanti nel carpenter quello lì ok allora mi serve del copper che dovremmo avere da cuocere vediamo un po' copper eeeh 141 da cuocere ragazzi orca loggia qui abbiamo del iron dell'iron voilà allora nel frammento che attendiamo che cuocia il copper vediamo cosa manca dobbiamo fare 4 tin gear per cui mi servirà anche della tin speriamo di averne tin 67 wow cuoceremo anche questa eeeh ragazzi io andrei a vedere un attimo la tartaruga se ha finito oh e dai ok dov'è dove è la tartaruga ah l'avevo messa di là pirla che è successo scusate perchè c'è tutta l'acqua nella tartaruga oh che l'è successo ah però la tartaruga vedo che ha finito vedo che ha finito da dove c'è tutta quest'acqua avrà bucato qualche qualche sorgente ma posso entrare anche io sul server finalmente arrivo vede una cosa la sotto non riesco a vedere che cosa sia si e chi la toglie tutta quest'acqua adesso ma io la lascio ma come ne fotte ok possiamo spostare la tartaruga allora qua non c'è niente nella tartaruga non c'è niente vediamo un po' refuel vediamo se ce la facciamo con la corrente 851.000 ancora eeeh masci 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 c'è da via ok ci riacchiappiamo tutto e possiamo spostare tutto ciò da un'altra parte dove io quasi quasi lo metterei sempre qua ma girato verso di là ok voilà gli mettiamo sempre i 4 chunk giusto per e li diciamo e scavate stavolta facciamo 10 va facciamo anche un 15 voilà 15 dovrebbe arrivare fino 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 qua più o meno tutta questa zona perfetto mentre la tartara va noi a casa ce ne andiamo voilà ok ma ragazzi mi dite che è lagga non lagga in live ma si ma lascia di stare sono i troll che stanno rompendo le scatole da stamattina ragazzi a chi continua a dire che è lagga è finito il live lagga continua a laggare per cui chiudete la pagina e andate a giocare a biglie dai che non ho tempo da perdere chi vuole continuare a seguirmi seriamente mi segue bene continuiamo a cuocere qui però 40 credo che bastino mettiamo un po' di tin voilà dai allora abbiamo un po' di ferro che ci potrebbe servire ok poi aspettiamo il copper e la tin e possiamo andare avanti dobbiamo fare in poche parole il coso qua 4 di questi intanto possiamo già fare 4 di quelli però allora abbiamo del legno abbiamo poco legno abbiamo poco legno però dovrebbero bastare per farne 4 ok facciamo diventare di pietra ok e poi e poi le facciamo diventare di tin lo scrivono una cosa interessante che sinceramente non saprei dicono che con la carne marcia che ti droppano i pig zombie una volta messa dentro la centrifuga industriale da del metano che può essere utilizzato per fare dell'energia possiamo provare la centrifuga industriale ragazzi continuate a consigliare perché io faccio gli esperimenti insieme a voi industria al centrifugue eccola qua centrifugue e dice che messa là dentro dovrebbe dare il metano che dovrebbe essere metano metà si ma è un casino e come la craft alluminio ningot attenzione 4 alluminio ningot possiamo fare o sono anche 4 le fini di iron in mezzo ci va l'extractor per cui facciamo l'extractor allora iniziamo a fare l'extractor allora ragazzi la proviamo subito no problem voi consigliate e io eseguo nell'industria centrifuga da una cella di metano che da 45k di EU a 16k eh minchia lo facciamo subito cavolo impressionante sì sì intanto ragazzi un grazie a tutti per i 4100 iscritti veramente eh sì ma non l'avevo visto lo sai se volete anche le 100.000 visite complimenti gg allora mettiamo via questi poi li cuoceremo tutti e finiremo l'ambaradam allora abbiamo la tin intanto facciamo un po' di cose insieme mentre cuoce lì io stavo facendo 4 di questi ah no la tin non l'ho cotta pirla e cosa ho cotto allora ah hai finito il iron il copper l'avevo già cotto non mi ricordo più sì mi sembra di sì ah sì ce l'ho qua pampe te allora andiamo qui e facciamo con la tin 4 di questi e voilà e abbiamo 4 di questi qua che poi ci serviranno dopo it's the perfect ora facciamo un machine block ok poi mi serve della legna non ho legna pensate voi che io non abbia legna ma invece avrei anche la crafting diretta ne facciamo 64 beh green dove l'è e chi te la chi it's the crafting superior velocement allora facciamo facciamo come si facevano così voilà ne facciamo 4 giusto giusto poi uno qua uno là uno qua uno là machine block e serve sicuramente ve lo dico quello lì quello lì quello lì mi serve del copper ok voilà poi facciamo così ah insomma ce l'ho già fatto guardate che culo questa si che si chiama fortuna allora abbiamo l'extractor dopo l'extractor dobbiamo fare 4 definite iron ce li abbiamo poi allora advanced electronic circuit sopra e sotto 2 advanced electronic circuit perfetto per cui facciamo 2 electronic circuit mi serve la redstone che non ho però attenzione perché forse la turtle non so se me l'ha presa vediamo un po' vediamo un po' scriviamo redstone oee 231 ma la turtle io la amo ragazzi quella tartaluga io la amo io la amo voilà 2 electronic circuit poi era era ora si che mi serve qualcosa che io non ho perché mi serve la glowstone che sempre io non ho orca loggia sta glowstone tu l'hai red la glowstone yes 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho attenzione attenzione oggi non mi sta servendo eeeh 2 mini penna 2 glowstone 4 redstone voilà mi servono 2 4 lapiscazzoli voilà no sbaglio sempre ho detto 4 ne prendo 2 ma sarò rincoglionato z ok devo mettere le crafting vicino qua così non faccio una volta avanti indietro sarò pirla anche e sbaglio e sbaglio ok 2 electronic circuit avanzati per cui abbiamo 2 di questi l'extractor 4 definite iron mi mancano i due laterali che sono i titanium machine si fanno con il titanium ingot come si fa il titanium ingot con advanced placing come si fa l'advanced eeeh allora se no si può anche fare con l'advanced machine block ecco che è molto meglio allora 2 di quelli 2 di quelli it's the perfect qua cosa ci manca ci manca tin bronzo e defini the iron allora dobbiamo farne due per cui tin bronzo facciamo del bronzo 18 ok 666 mi viene un bel po' di bronzo perfetto mi vengono 12 e 12 tin ne abbiamo solo 8 a cuocere da tin allora questa cos'è zinc tin mentre qua ce li iniziamo a fare questi qui allora abbiamo così abbiamo così e abbiamo così ma forse basta non sono pirla mi eh no mi manca l'umotor mi manca l'umotor lo facciamo subito al volo ma si lo facciamo al volo volante allora ferro redstone legno e cobblestone voilà e abbiamo questo poi facciamo due di questi di pietra voilà questo qua pietra sopra e mi serve un vetro e logicamente non abbiamo vetro non abbiamo vetro non abbiamo vetro a me manca sempre sto cavolo di vetro prima o poi farò una farm di vetro prima lo poi farò la farm di vetro qui come le si ha messo abbiamo della tin ok vediamo anche una cosa strana se mi ha trovato sempre la turtle si la mano se mi ha trovato il carbone che siamo sempre a corto di carbone intanto gli mettiamo della legna giusto per non attendere e vediamo se mi ha trovato il koala si 509 di carbone oh orca lo già e quando ce vu ce vu poi appunto perché abbiamo il carbone facciamo così mi serve la coal dust allora prendiamo del carbone abbiamo già 10 coal dust ne faremo altri qua togliamo la tin e mettiamo a fare del carbone via e qua ne abbiamo già 10 ci abbiamo detto me ne vengono 2 me ne servono altre 6 poi qua abbiamo due di questi possiamo già metterli a comprimere voilà poi nel frammento cuociamo altro ferro farei tutte 31 ma si ok qui qui come si ha messi ok perché poi dove sono finiti dimmi sicuro che guarda che non puoi comprimere quelle cose lì le devi prima unire a 2 a 2 no ma infatti volevo mettere gli altri ho sbagliato li stavo cercando adesso in passato in velocità ho visto quella cosa lì ma infatti stavo cercando e dicevo dove sono finiti ok due di questi due di questi però me ne servono 4 orcaloge è vero me ne servono 4 qua quasi finito voilà one nation è andato qui abbiamo le finite hyron ho trovato altro quarzo eh usa il piccone quello lì bello ce l'hai? lo vuoi? eh no me l'ha usato me l'ha preso il coso il query ah ok ma te lo porto però e ho attivato un po' il query perché mi mancano un po' di cose che oggi ho craftato tantissimo ma te lo porto va allora m ok Luke qua ti posso ti lascio un po' di qua ah no non te lo posso lasciare qua dove te lo posso lasciare abbiamo tre di questi mamma si te lo butto addosso va via così arrivato? arrivato yeah io vado a casa via a parte qua c'ho altro quarzo io possiamo buttarlo qua dentro poi vediamo dopo dopo potenziamo anche l'impianto lo smistamento chest allora dai però come sei moscio devo fare altri overclock ok dovremmo aver finito eh no me ne mancano altri quattro c'è ancora uno di quelli perfetto allora mettiamo a fare questi allora uno ancora tre dai ancora tre dai su orcalo jawè dai ancora uno dai ci prendiamo l'overclock e lo piazzichiamo qua così va più veloce eh no me ne servivano altri quattro ma sarò rimbicillito però eh porca loggia ma sarò rimbicillito però dai veloce muoviti nel frammento tempo iniziamo a fare due advanced machine block allora due di questi e due di questi voilà mi serve solo l'ultimo com'è che si chiamano i carbon plate i carbon plate nel frattempo io sono a corto di oro per cui accenderei l'impianto sotto lo so che fa casino ragazzi però ok e poi mi servirà un po' di carne marcia giusto per fare la prova eh si io ne dovrei avere un po' di carne marcia eh rendi lascia stare perchè ho 50.000 stack eh giustamente tu hai la farm ok e dai e dai finisce oh ok due di questi attimo di lag ok ragazzi fatto industria nel centro e i fughe va a corrente giusto va a corrente per cui noi lo collegheremo un attimo alla corrente per vedere come funziona pampe te da quanto quanto consuma questa industria eh vedremo devo metterci la carne marcia abbiamo detto e cosa fa ma va con la lava va con la lava si allora facciamo così facciamo una cosa del genere premiamo la U consuma tanta corrente quello lì però mi sa che devi metterci su alcuni ci devi mettere tipo le celle o cosa del genere e infatti è quello che sto guardando allora eccola qua dobbiamo metterci le empty cell le empty cell possiamo fare anche le tin di cosi vabbè facciamo le empty cell come si facevano le empty cell con la tin 4 pezzi di tin 4 pezzi di tin bravo qua non bisogna sbagliare perché se no ok me ne fate 16 perfetto ma ho usato tutta la tin vaffanculo ah ma adesso il query ti raccoglie anche le api il query si raccoglie tutto bellissimo allora vediamo un po' se funziona ok sta funzionando sta funzionando ma si è bloccato perfetto non sta consumando neanche tanta corrente ah ci mette un po' ok vedete con cui sia sta lavorando ci mette un bel ponza 250 secondi vabbè intanto qua ha fatto anche le pepite sono pirla ma le pepite possiamo farle tornare normali basta fare così mettere le pepite qua dentro e voilà ritornano i nostri cose ok primo attrezzo fatto lo lasciamo andare corrente come stiamo messi va bene va bene allora cosa stavo facendo io il rain cacchio questo qua mi serve allora questi li abbiamo 4 vetri e questo qui che si fa con lo strudicasing per cui mi serve del bronzo 6 ancora 2 ok e 4 diamanti abbiamo diamanti non abbiamo diamanti non abbiamo diamanti non abbiamo diamanti abbiamo un diamante 1,2,3,4 2 diamanti 2 diamanti vediamo un po' quasi ci ha trovato diamanti diamond no gold abbiamo 22 gold da cuocere e 9 di questi che è un livello che è un ingotto Oh 30 31 32 basta ok abbiamo fatto un po di oro diciamo un po di oro voilà qui c'era l'altro ok intanto a 4 diamanti ci arriviamo qua voilà dobbiamo metterli nella 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 qua ah no dobbiamo fare quello lì che si fa nel carpenter con l'acqua per cui andiamo a cercare il carpenter con l'acqua che dovremmo avere dovrebbe essere questo yeah e facciamo così allora abbiamo detto 4 diamanti e questo al centro no no come cavolo è così ah pirla che non sono mi voilà questo e questo accendiamo air motor e dovrebbe venirci questo qua perchè non va perchè lo spinto perchè non va mi sa che manca l'acqua perchè non va perchè non va no perchè non sta andando eh non lo so più acqua più acqua dicete più acqua più acqua più acqua premici sopra dicono di premere sopra l'area sip no ho già fatto più acqua allora temporoli di merda ok è partito mancava l'acqua però manca ancora acqua mi sa perchè c'è sto temporale eh bu non lo so l'acqua io è caduto con fulmine avevo l'acqua nel secchio non c'è più oh ah ma sto laggando veramente tanto eh sì stai laggandolo eh ma anche nel live aspetta eh no nel live si vede bene vabbè hai hai molta differita sul ping più che altro però è ok più o meno fattibile e live va bene non scatto ok dovrebbe bastare ah fermi fermi qua stavo dicendo non devi fare il rainmaker per far piovere ma devi fare il rain tank che raccoglie la pioggia no no a me a quello non mi interessa faccio un'altra cosa per l'acqua tranquilli a me se abbia questo ok headshot black fatto si può spegnere torniamo a casa perché a me da me vedete ragazzi c'è il temporale ma non piove qua perché è come se fosse un deserto però facciamo passare il temporale adesso allora vi faccio vedere questi quattro questo al centro questi qua ma non è finita ragazzi eh abbiamo il rainmaker ora ci manca un'altra cosa che è la combustione che si mette che è il li come cacchi si chiamava ragazzi il dissidissi eccolo qua dissipation charge allora mi servono quattro royal jelly niente ragazzi non posso farlo non posso farlo perché? perché torniamo al discorso di prima quando la gente basta con le api le royal jelly arrivano dalle api le honeys dewi arrivano dalle api senza api non posso andare avanti grazie a tutti quelli che mi dicono basta con le api per cui mettiamo via questo attrezzo non lo useremo andiamo avanti facciamo qualcos'altro allora oh mi ha fatto due metane sel ora le metane sel dove si mettono? allora vediamo chiediamo direttamente tu? ah si può fare anche il tank cart di metano nell'extractor mi ridà le empty sel ma va? dicono che nella cosa nella centrifuga no nella centrifuga industriale se ci metti la lava ci fa ripare la lava ti fa gratuitamente copper e electrum e tin scrivono questo e poi non so va nella gas turbine gas turbine gas turbine gas turbine gas turbine gas turbine e come quando va craft domani mattina ah puoi me no 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 aspetta i al posto di cosi del laser ci puoi mettere gli advanced di circuito che sono un problemino però meglio dell'altra roba allora altri due allo i cosi per cui copper rifiniti iron e 6 di tin no allora 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 intanto leggo un po' la chat vediamo che dicono se c'è qualcosa di interessante poi i windmill me ne servono due due generatori si ciao 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 amore scrivimi ciao ciao ma va vanghiul ciao sorrano tin cuociamo della tin qui abbiamo dell'oro allora io non so se quello che leggo è vero ma dicono nella chat che in un aggiornamento hanno rimesso il destruction catalyst che c'era nella tecnica si si c'è il extraction catalyst ah davvero si si lo devo fare si chiama uguale identico mi sembra di si è vero eccolo qui allora questo se guardi come si fa lui ti metti a ridere lo so lo so è un casino allora cosa devo fare con la tin non mi ricordo più ah si le batterie mi servono due no sei batterie addirittura 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 addirittura sei batterie addirittura c'ho anche il pappagallo viene a tempo la gomma come si chiama gomma rubber rubber Ne abbiamo 5630 artia Noi la cuociamo tutte 64 Dai dai su dai Pirletta ciao Surreal Ma non c'era Surreal? Non c'era Surreal? Ma chi è che ha salutato Surreal? Si è entrato Surreal ma si è anche mutato Ah ok Qua dicono tutti di fare il good end Che è un oggetto rosso ma non capisco che roba è Perché lo provo a cercare nella nema Non c'è Non so se li riconosci No Allora Quanti me ne vengono? Una Due Tre Quattro Ancora due Non abbiamo tin Poi me ne ha fatto un'altra Ah insomma per fare tre metan cell Abbiamo usato uno stack 64 di bistec Qua di carne Orca loggia 61 stack? Si si Per far me ne tre Eh però Conta comunque alla fine le buttaresti Vabbè quello si Allora 4 e 48 dovremmo essere a cavallo Ok 6 batterie Vaffanghiul Vaffanghiul More 2 2 2 2 2 I windmill Si devono fare i generatori Ok Eh Altro copper Ne abbiamo solamente due Orca loggia Copper Ah 2 e 1 3 Voilà Intanto cuociamo l'altro Papà Pappero More Allora Batte queste qua Poi mi servono due Mi serve la cobblestone Ok 49.000 di cobblestone abbiamo ragazzi Facciamo due fornaci E le fornaci le facciamo diventare di ferro Me ne servono 10 Pronto? Sì Pronto? Che pirla Sarò Un coglione 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 Un coglione Sarò Ma non dire così Che sto combinando Diamante Lulululu Mi serve il tuo piccone con 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 coso lì Con Con fortuna Eh viene a casa e te lo do Allora abbiamo fatto i due generatori Sto rincoglionendo ragazzi Sto rincoglionendo Sto rincoglionendo Sto rincoglionendo Sto rincoglionendo Arrivo Rendy Allora Allora che sto un attimo rincoglionendo Cos'è che volevi il piccone Il piccone volevo fortuna Perché ho trovato un po' di diamanti Poi me lo dirai vero? È ovvio No adesso scappo Via 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 Ok Due windmill Vaffanculo E ce li abbiamo Poi Ah Sì Andiamo a prendere quella roba lì Ma che fortuna Mi ha dato due diamanti O erano due quelli Mannaggia Ok Uno di questi Due windmill Ok Ai lati Poi 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 Mi servono Quattro Invaringot Che dovrei avere Dimmi che c'ho L'invaringot Vaino Cinque Porca loggia Quattro Invaringot E Mi mancano due Advanced Electronic Perfetto Uno lo abbiamo già Non so per quale motivo Me ne serve esattamente un altro Bene Abbiamo sei copper Yeah Ok Poi Due redstone E due Uno di questi Voilà Poi Uno di questi Quattro redstone Quattro redstone Due lapiscazzoli E mi servono La glowstone Due glowstone Due glowstone Dove ho messo la glowstone Porca loggia Qua Ok 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 Il prezzo è giusto Abbiamo fatto anche il gas turbine Il gas turbine Come funziona? Non lo so Ok Eccomi allora Ti lascio il cone Eh ragazzi Un attimo Rendi Ho fatto il gas turbine Ora Cosa ci metto dentro Le cose In Eh sì Eh sì Penso di sì Eh quindi Mi ha fatto Il gas turbine Un maytime Dove si sta 996 Mi ha ridato L'empty cell Togli l'empty cell Vedi Tettolore No perché Sarà già pieno Tu dici Ma questo È tipo un generatore? Eh sì Penso Vada collegato All'MFE Tipo Proviamo a fare Una batbox Va giusto Per prova Tanto le batterie Ce le ho Allora Penso cercando Di leggere in chat Si produce elettricità Va attaccato Al contenitore Da energia Blah 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 Per collegare MFE Che genera Ah lo puoi collegare All'MFE Dicono qui Eh lo sto collegando Alla batbox Vediamo un po' Voilà La batbox Si sta riempiendo Vediamo un po' Quanta ne fa Siamo già a 3000 Eh ne fa eh Magari togliamo questo Vediamo con uno Quanta ne fa Cioè allora Con uno di quelli Che sarebbe quasi Un terzo di stack Di carne marcia 7000 Eh Vuoi dire che la riempie tutta Allora Eh mi sa che la riempie tutta O no Mamma mia La peppina di Mallorca Energia infinita Porca puttegna Si è un po' lento Eh devo dire che è un po' lento Eh vabbè però Buttale Ci puoi fare un bellissimo Impiantino no Che ti tira No vabbè Già fare due o tre Di questi gas Perché uno è lento Ne fai due o tre Già un pochino più veloce È un casino craftarli Però Eh ma non è male Ci puoi fare un bell'impianto Che te li porti Direttamente giù Da dove arriva Ma sai che mi sa Che me ne riempi due Di Batbox Perché era 900 E ha fatto la metà Ah no vabbè giusto 40.000 farà Farà intorno A 40.000 Era 900 qualcosa Sì È una cella Fa 40.000 Eh Puttali Ah dicono che fa 45.000 di corrente 45.000 Eh buono 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 Solo che adesso sono pirla Perché io la Batbox Se la tolgo Perdo l'energia Giusto? Non mi rimane Sì È carica C'è un Batpack Massimo Tanto era una prova Eh no non ce l'ho Mi devo fare anche il Batpack Era una prova Vabbè collegalo all'MFE A sto punto E poi quando Quando non hai energia Te lo scaricare là dentro Cacchio ma io vado a prendere Altre bistecche marce Che ne ho Un fottio Torno a casa Intanto Vado a mettere a posto Un po' di roba Qui Ti ho lasciato il piccone Nella cesta Ma ne usa 16 alla volta 16 alla volta ne usa Sì Con uno stack A 64 Ne fa 4 E beh Però 4 40.000 E ne avanza 107 Sì 45.000 Allora Se ti fa 400 Se ti fa 45k Ognuno Ok la mano è carica Perché la mano 20.000 Vado un attimo Ottimo ragazzi Ottimo E quasi quasi Ci carico anche il laser Giusto per non buttare Dell'energia Il laser me lo carica Nella Batbox No E no Solo nell'MFE Vaffanculo Vabbè Vabbè Finish It's the finish Ottimo ragazzi Ottimo Non lo sapevo Grazie per avermelo detto Facciamo una chest Voilà Ok Abbiamo un bel po' di lavora È di corrente Scusate Non finire mai in live Sì Sto in live 4 giorni consecutivi Ragazzi Mangio e dormo E cago in live Va bene Allora No Che cacchio sto facendo Ok Poi ci metterò Le altre Allora Potrei farmi anche Un impiantino Che le bistecche Mi arrivano lì Da lì vanno lì Da là vanno là Però poi lo faremo Allora Andiamo avanti ragazzi Cosa facciamo di nuovo Io in teoria Ho bisogno di cibo Di cibo Veniamo ad un altro impiantino Vediamo un po' Se riusciamo a farlo Dobbiamo fare questi qua Vediamo se sono fattibili Gli Xin No Che Xin Xic Xic Allora Dovrebbero essere Quelli blu Questi qua forse No Perché mi ricordo Che finiva con Rium E eccomi Erano i soil Aspettate ragazzi Una cosa Soil Eccomi Mi sono andato A ordinare la Acco qua Acco qua Acco qua E non possiamo Farli 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 Perché ci mancano Gli alberi 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 Allora Che alberi vanno Vanno tutti i tipi Di alberi Forse Ce la facciamo Qua ci va Quello normale Stai facendolo Si Allora Dobbiamo fare Questi qua I green Cuts Andiamo a fare I green Cuts I green Cuts Sono questi qua Ne abbiamo 850 Mila Voilà Prendiamo i due stack Come si fanno I lingotti U Ah volendo possiamo fare Direttamente così Perché messi Fanno così Ok perfetto Possiamo fare direttamente Quelli che servono a noi Allora Allora Marcos Eh no Kaifer Ah Kaifer Scusami Allora Con uno stack Ne vengono 6 7 7 E con un altro stack Ne vengono altri 7 Voilà 14 Allora 14 di questi Messi per così No Messi per così Ah no Che pirla però Mi servono I green Cosi Ah ma perché Andiamo a fare i lingotti Sono un coglione Mi servono gli altri Andiamo a fare i lingotti Allora Messi nella Furnace Facciamo i lingotti Perfetto Oh Luke Di solo perché Mi stanno stressando In chat tutti Cos'è sto guanto rosso Il guanto rosso Parlano tutti di un guanto rosso Good and Good and Tutti Paolo Vabbè Non so cos'è Però ne stanno parlando tutti Me lo scrivono in 10.000 Non c'è nessun guanto rosso Allora Una presa per i riformelli Non c'è nessun guanto rosso No Ando con l'H Ah No Con l'H Vabbè Così sì Non c'è nessun guanto rosso Niente Grazie Lasciali stare Avranno sbagliato Good and Ragazzi Ah sì Dicevano Che è una cosa per la Per la Power armor Cioè per la La manina Quella elettronica Non c'è Non c'è Avranno visto un altro pacchetto Nella ultimate Non c'è Ah Magari per l'1.5 Visto che voi siete l'147 No Eh appunto Potrebbe essere un aggiornamento Ragazzi scrivi good Scrivo good Non esce niente Non c'è Punto Adesso mi sono limitato Cosa stavo facendo Ah stavo cuocendo qua I lingotti Ok allora Abbiamo i lingotti Poi mi serve Abbiamo i 4 Tipi di lingotti Ok Poi Cosa stavo facendo Ragazzi Mi ricordo più Il soil Ok Poi mi serve La brick normale E la redstone Perfetto Per cui mi servirà Un bel po' di stone Questa se riesco a farla È un'altra cosa Figa Ok Cuociamo tutta la stone Ok Ok Ho fatto un tutorial Su come si cambiavano i crafting Per farla easy Versione del greck tech No Sì Ok Ok Intanto facciamo questi qua Possiamo farli pure da qua Pirletta Ma me ne servono Molti di più Voilà Uno stack Credo che basti Vediamo un po' Allora In poche paroliche Dobbiamo fare Così Con in mezzo La redstone E ci vengono I green Cacchie Me ne vengono un bel po' 64 Per il momento va bene 64 di questi Ce ne vengono 16 Con in mezzo Il ferro E Gli alberi Scommentate che adesso Non ho alberi Tankete Mi servono un bel po' Di alberi Però vediamo se vanno bene Gli alberi Quelli che ci sono fuori Non credo Me li accetti Perché è di un'altra mod Eh Come si chiamano Gli alberi Porca loggia Ehm Sapling Sapling Ne abbiamo 967 Scommentate che questi qua Non vanno bene Con la sfiga che ho E gli altri? Eh gli altri non ho pochi E infatti Non vanno Questa è sfiga Questa è sfiga Allora facciamo così Ehm Sapling Vediamo un po' se li mischiamo Se ci arriviamo Ne abbiamo due di questi Poi abbiamo Questi qua Questi qua Perché credo Si possono mischiare Vediamo un po' Se io ci metto Tre di questi E uno di questo Non viene Quattro di questi Ok Niente Non andrò a fare Altri di questi alberi Porca loggia Hai alberelli Normali Non Si Mi sembra che si Ma non puoi trasmutarli Con la minimum Tipo No Credo Mannaggia Ho alberelli Normali Ne ha solo 5 Lo Eh Sai che forse Bastano Me ne sevano 4 Ne ha solo 5 Allora aspetta Ma te li porto Nel caso Di riservo Non te li vado Li vado a cercare Perché me ne sono venuti 6 Me ne sevano molti di più Ah vedi che Qua ne hai Io ne ho messo altri 5 Ma ne avevi già 2 Di hoax Sapling Nella large cesta Qua 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 Ah so 7 E uno ce l'ho io 8 Perfetto Controlla tutte le ceste Eh permesso Oh basta metto la slow Non li supporto più Ragazzi questi non sono semplici blocchi belli Eh questa è una cosa speciale Ora fatto questi Facciamo un altro aggeggio Che ci serve Eh la Questa cosa qua Noi abbiamo le li li pad Che sono quelle normali Dovremmo averle Noi dobbiamo fare la li pad Of fertility Che sarebbe un fertilizzante E' un casino farlo Ci servono 8 di questi E per fare 8 di quelli Ci servono questi qua Ehm Minzica Mi serve la netherworld Abbiamo la netherworld 43 Me ne servono 8 Ok Poi mi serve 8 Blown power 8 Oh Kalugia Dittimi che ce l'abbiamo La Blown power Ecco qua Così se ne erano contenti Potremmo continuare a scrivere Quello che voglio Cosa? No mi stanno Mi stanno Mi stavano Mi stavano Stufando Ok 8 di questi Scusatemi ragazzi Sì sì 8 glowstone Oh Questo lo muto Gliel'ho detto ieri Che il caffè Non mi interessa del caffè Ogni volta viene questa cosa del caffè Basta Allora 8 glowstone 8 di questi 8 di questi E 8 Di Questi qua Che si fanno Normalmente con il vetro Non c'è il crafting Orca loggia Però se non erro Si dovessero fare Si dovessero fare Così Se non erro Come cavolo erano Porca loggia Chi è che si ricorda il crafting ragazzi Perché non c'è Nella Dimmi come si chiama Lo cerco sulla wiki Dai Le vial of ordinary Le vial Le vial Quelle vuote Ah ok Trovate Trovate Era così Allora Ne vengono 5 A me ne servono 8 Perfetto Mi serve altro vetro Come al solito Io sono a corto di vetro A corto Ok Ne vengono 10 Le andiamo a riempire d'acqua Dovrei avere l'acqua in casa Voilà Ok abbiamo queste qua Ora queste qua Con queste qua Dovrebbero venire Le condenser splash Perfetto A noi servivano le condenser splash No Si Perfetto Ne facciamo 8 Come detto prima Queste 8 Con il bomb meal Le facciamo diventare Quell'altro tipo Prendiamo del bomb meal Ne servono 3 per 8 24 Per cui Dove sono le ossa Qua 24 giuste giuste Ma io sono un mego Ok E facciamo 8 Splash Vertilizer Le mettiamo Così Ci mettiamo Dentro Queste piantine Che Akimbo Mi ha dato Avendo trovato La giungla No la giungla La cosa lì La La piazzichiamo Al centro E facciamo La Lilliped Of Fertility Allora Signorini Signoretti Andiamo fuori E facciamo La nostra Ambaradam Allora Facciamo finta Che la volessimo Fare qua O magari qua O magari là O magari dove Su Qua Ehm Facciamo qua Allora Possiamo togliere Tutta questa roba Ora Non mi ricordo Lo spazio Che prende Però noi Ci proviamo Lo stesso Allora Mi serve Una pala Che logicamente Non abbiamo Perfetto Io avevo Una pala Da qualche parte Non qui A PILA Facciamo A mano Facciamo Prima Ah ho capito Che cos'è Si c'è E' tipo Una granata Holy hand grenade Ma non credo Ti serva In questo momento Ne abbiamo Solo dieci Di questi Ok Non mi ricordo Non mi ricordo Dobbiamo farne Altri In poche parole Ragazzi Ora Cosa succede Questa qua E' una specie Di terra Noi possiamo Coltivarci sopra Non so se possiamo Coltivarci tutto Ciò che vogliamo Proviamo con le patate Le patate No Perfetto Il grano Ok Questo qua Si No Non me lo fa piantare Si It's the sea Si pianta Questi qua Me li fa piantare Le patate invece No Porca loggia Sono PIRLA Allora Sono PIRLA Però io mi ricordo Che le patate Si piantavano Mi li ridai indietro Per favore Grazie Allora No le patate no Le carote No Ah perché forse Solo i semi Andiamo un po' Cosa fanno la domanda Dimmi dimmi Non servono Non l'ho capito Adesso sto finendo Allora Un attimo Prendiamo Questi semi strani Leon Queen seeds Per esempio E altri semi Non li abbiamo Facciamo una prova Con questi dai Poi Inizieremo la towncraft Perché mi servono i golem Per completare l'opera Allora Piantiamo questi Vedete che questi si piantano Voilà Ora Qua Gli ultimi due Ci mettiamo questi Tanchete Ci mettiamo nell'acqua Questa cosa Fertiligere Che noi abbiamo fatto Pampete Guardate che effetto It's the perfect Non so se sta funzionando Dovrebbe star funzionando In poche parole Ragazzi È un fertilizzante Infinito Che ci fa crescere Subito le piante Che figata È un raggio Se non mi sbaglio Di 4x4 3x3 Adesso non ricordo bene Comunque all'incirca Fate una circonferenza Di 8 E siete a posto Dovrebbe far crescere Le piante Velocemente Su quelli blocchi lì Però non so Ah ok Vedete che stanno crescendo Logicamente non è che Crescono improvvisamente Cioè subito Però Adesso non mi ricordo Quanto è la percentuale Crescono molto più velocemente Di come Piantarli normalmente Tranne questi semi Questi semi non li vuole Va bene Facciamo crescere questi qua Vedete che già Questo qua dovrebbe essere cresciuto Però non mi ricordo Quanto diventa grande No non era cresciuto Bene Figura di merda Comunque è infinito ragazzi È un fertilizzante infinito Anzi Ora che sto guardando l'immagine Mi sa che è solamente Per queste foglie Per queste piante Neanche per il pane Vabbè aspettiamo che crescano Ragazzi io intanto Mi riposo un attimino No Nel tempo io ti dico Questa canale L'hanno chiesto Di guardare il crafting Per il diamante Ragazzi Dovrebbe essere fatto Guardate un attimo voi Arrivo subito All'imbaglio Va bene Arrivo Allora io vi ricordo Di cliccare Follow Su Qua sotto Sotto al video Per iscrivervi al canale di Luke In maniera tale Che ogni volta che vado in live Vi arrivi una mail Che vi avvisa appunto Che sta andando in live In più Se non siete iscritti a tu Ci state guardando Il live Iscrivetevi a tu E poi cliccate Follow Esatto Poi evitate di ripetere Le stesse cose 400 milioni di volte In chat Perché Se non lo diciamo Cioè le leggiamo tutte Se non lo diciamo C'è un motivo Quindi Se Scrivetelo un paio di volte Al massimo Ma non di più Stop Soprattutto Quando Vi abbiamo già dato una risposta Ecco Especialmente quel caso La God Endly L'altra cosa L'armatura Power La Power Armor Non la fa Perché per Luke È una cosa che si fa Una fine serie Quindi per ora Non la farà In futuro Verso la fine Quando arriverà Non so 100 Passi episodi Magari la farà Ma per ora no Esattamente Alla fine Non c'è molto divertimento Con l'armatura No A giocare Molto più bello Il rischio Di morire Ragazzi scusate Ma c'ho la bambina Che sta iniziando a camminare E non vi immaginate Cosa sta diventando Apre i mobili Butta giù tutto fuori dai mobili Oggi sono andato a trovare Il mio fratellino piccolo L'uno Eppure lui Adesso inizia a camminare Poco più di un anno È una peste Apre di tutto Ok scusami Randy Questo qua Doveva essere pronta Se non sbaglio Vediamo Voilà No Ma l'hai dato solo Il semi in mano Niente Non era pronta Perfetto Ragazzi Torniamo dopo In poche parole Queste piantine Droppano Oltre ai semi Droppano Una foglia verde Quella foglia verde Poi nell'inventario Diventerà un'altra cosa Che messa dentro Sempre nell'inventario Diventerà filo In poche parole Diventerà filo Comunque era un impianto Che non tutti voi conoscevate Ah Giusto? O sbaglio? Sì no Io non lo conosco E poi ci sono tanti altri tipi Di quelli impianti ragazzi Perché io ho fatto la soul Però se scriviamo così La Si Comunque si Vedete quanti blocchi Ci sono altri C'è la Xichorium Water Che non so a che serve Devo ancora vedere Poi c'è questa qua Light La Ice Dovrebbe fare Dovrebbe fare Il ghiaccio Non lo so comunque ragazzi Sono questi tre Sono questi tre tipi Il water Secondo me Cioè io posso immaginarlo L'effetto del water Però non No non è il water Che vai al cesto È proprio water 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 Vabbè minzica E devo dire Che forza la pronuncia Corretto là Infatti mi stavo domandando Cosa fosse il water Allora questa spada d'oro Che mi avanza Io la piazzicherei qua Tanchete No la non si vede Ridammela grazie Mettimela al centro Bravissimo Vedete che sei intelligente Quando vuoi No è crescente Grazie Fanno le Le Il metano Anzi volendo Possiamo mettere altre carni marce Dentro Abbiamo già otto cose di metano Io voglio fare metano qua E poi finiremo anche tutto l'impianto Con calma Poi abbiamo fatto qui Che il metano Si trasmuta in corrente Abbiamo già riempito una batbox Poi abbiamo fatto L'impianto fuori Che vi ho fatto conoscere io Invece Poi cosa abbiamo fatto Niente Ora posso andare avanti Un po' con le api ragazzi Perché senza api Ah si ecco Abbiamo craftato il rain Voiter Il rain maker Che non posso utilizzare Perché non ho le api Questa è colpa vostra Vediamo un po' Se le turtle Mi hanno trovato qualcosa di nuovo Oltre alle api In teoria Loro Invece delle api Vorrebbero Che vai a controllare le turtle Le turtle L'ho già controllata prima E l'ho già riavviata Una nuova E allora non ha senso No Più che La cosa importante Che mi manca in questo momento È un impianto Perché Adesso Facciamo un esempio Gold No abbiamo già preso prima Iron Vedete che abbiamo 214 blocchi di iron Da cuocere Poi Tin Ne abbiamo 21 Copper Ne abbiamo 57 Poi cosa c'è da cuocere Ancora ragazzi Che mi viene in mente Tipo L'alluminium Alluminium Ne abbiamo 216 Poi abbiamo 16 Poi abbiamo 16 Da cuocere Di galena Ho Non è in mente Di cuocere Cosa c'è da cuocere Ancora poi Ah il silver Ne abbiamo 67 Perché le turtle Stanno scavando Quindi vorrei un impiantino Adesso che da qui Mi manda a cuocere Allora Facciamolo subito Facciamolo subito Facciamolo subito Facciamo un attrezzo nuovo Della mod Dello smistamento chest Che si chiama Andiamo nella ME È un tubicino Che ora vi faccio vedere Questo qua Noi avevamo visto L'import Ora a me serve invece L'export Import bus A me serve L'export bus Che si fa Con un ME interface Ragazzi Io queste cose le odio Allora Mi fa male il collo Cioè io non so Se voi ci credete Mi fa male il collo Mi serve uno di questi Che non mi ricordo più Come si fa Oro Reddison E pallini Dovrei farlo qui Allora guardate Se io vado qua E faccio così 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 Punto di domanda Lui me ne fa tre Voi direte Come è fatto Luke Perché Lui ha rilevato Nella chest Già Delle attrezzature Delle items E me le ha autocraftate Fino a che ne poteva Tanchete Ne abbiamo già tre Li andiamo a cuocere Ok Poi ci serviva Dopo una volta cotti Ci serve questa roba qua Ta 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 It's the perfect Allora Adesso sto scrivendo un attimo Allora Se noi ne mettiamo Uno qua dentro Non ne mettete tutti Ragazzi Sennò vi userà Tutte le cose Andiamo appunto qua Andiamo qua Andiamo qua Qua E questo qua Li facciamo al punto di domanda Pampete Non me l'ha fatto Perché manca la redstone O il ferro Cosa manca? Il ferro Perfetto Manca il ferro E forse manca anche la redstone Si Ferro e redstone Voilà Eccolo qua Uno di questi Avendo uno di questi Ora possiamo fare Eh Manca un tubo E tre vetri Perfetto Punto di domanda Mettiamo dentro questo Un tubo E tre vetri I tubi dovrei averli Nello zainetto Se non erro E infatti erro Ce li ho qua E tre vetri Tre vetri E i tubi Tanche te E me ne fa One nation Poi abbiamo questo qui E facciamo Un tubo Due ferri E un pistone Perfetto Allora scusatemi Punto di domanda Mettiamo dentro questo Un tubo Tre ferri E un pistone Abbiamo detto Giusto? Si Facciamo il pistone Per cui Un ferro Una redstone E' più facile Procraftare così Ti porta via meno tempo Ok pistone Guardate Metto il pistone E il gioco è fatto Tanche te Abbiamo L'export L'export Se non erro Sbaglio Dovrebbe funzionare Come dico io Allora Se io lo metto Per esempio Su questo tubo Ora prendiamo La wrench E lo giriamo Tanche te E io qua Ci volessi Piazzicare Una chest Facciamo un esempio Perché ragazzi Se questa mod Io ancora È la prima volta Che la faccio Insieme a voi Per cui Si sto girando Le chest Va bene Mi serve del legno Mi serve una chest O del legno Vabbè Utilizziamo quella chest Lì in fondo Che mi guarda Che dovrebbe essere vuota Ok Lì piazzichiamo la chest Guardate Andiamo qua dentro E mettiamo La roba Che noi vogliamo Che lei risucchi Per esempio Risucchi È un po' una parola brutta Però Facciamo iron Per esempio Prendiamo Un blocco di iron Lo mettiamo qua dentro Tanche te E dovrebbe andare Nella chest Tutto l'iron Guardate Che sta arrivando l'iron Lei si richiama Automaticamente Tutto l'iron Tanche te Basta metterlo nel tubo Perché i tubi Sono tutti intelligenti A qualsiasi tubo Non lo colleghiamo Lei richiama Guardate Ora piano piano Ci richiamerà tutto l'iron Volendo noi possiamo Aggiungerli anche Per esempio Il silver Prendiamo Un blocco di silver E lì diciamo Che oltre all'iron Vogliamo il silver Una alla volta Tanche te E arrivano Dovrebbe arrivare Anche il silver Quando ha finito l'iron Però Noi qua Possiamo anche dirgli Che invece di spostarceli Una alla volta Ce li sposta A stack interi Voilà È già arrivato In un attimo Che figata Non lo sapevate Sta cosa Ora Li diciamo Anche Cos'è che c'era C'era il copper Giusto Poi Cos'è che c'era da cuocere Ragazzi aiutatemi Copper Iron Silver Tin Tin Alluminium L'alluminium Non si cuoce Cioè si cuoce Ma non Dove Ah si non si polverizza Tin poi Facciamo ore E facciamo prima L'oro Dai oro No basta fare ore E escono tutti i lingotti Allora Tin Copper Il ferro Mi sembra che non Si trita Adesso lo proviamo Poi abbiamo Il lead Poi abbiamo Anche il mozart Mi sembra Il galena or Non mi ricordo Lo proviamo Il galena Se non mi sbaglio Si trita Ma non si cuoce L'alluminium Abbiamo detto di no Il sin bar Mi sembra che Si cuoce E basta E il tungsten Lo possiamo lasciare lì Per il momento Perfetto Allora Aggiungiamo tutti questi qua Voilà 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 E voilà Giusti giusti sei Tanchete Guardate Vanno tutti qua dentro Questa era una prova ragazzi Eh Era una prova Perché noi abbiamo messo la cesta Ma se invece della cesta Noi li mettiamo Automaticamente O una fornace O un O un Come cavolo si chiamano Orca loggia Ragazzi aiutatemi Eeeh Un tritatore lì E' un maceratore Un maceratore Lui ci rimanda direttamente Il maceratore Il maceratore Li facciamo l'impianto Che ritorna lì indietro Nella cesta Già belli i lingottetti Sapevate questa cosa No 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 Voilà Ora Dobbiamo uscire tutto E rimettere tutto là dentro Perché sono Quella Dico una cosa Non rilascerai la mappa Perché Ovviamente Ci sono Tipo Kyfer e Marcus Che hanno il loro La loro casa Con le loro cose Eh si Come al solito Non posso Vedremo alla fine Ragazzi Alla fine Dovremmo rilasciarla Ok Poi Abbiamo uno di questi qua Li appoggiamo un attimo qui Ok 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 Ora Ora dovrebbe essere un po' più semplice Perché noi qua abbiamo il maceratore Però il maceratore ci arriva la corrente sopra Se noi la corrente gliela facciamo passare da dietro Da dietro Vediamo un po' se riusciamo a fargliela passare da dietro Ok Allora Da dietro Abbiamo detto che Li mettiamo questo qua Voilà E andiamo a prendere altri copper Tanchete Gli arriva la corrente Comunque Perfetto Ora Possiamo richiudere qui Questo è per quello che mi dicevano Luke Fai la Metti la La Come si chiama La logistic pipe Avete visto che questo in grado Funziona uguale La logistic pipe Solo che però devi farti un impianto a parte No guarda Guarda che è un figato adesso Se io prendo L'export Lo metto qua Guardate Io lo posso girare come voglio Voilà Ok Guardate Stessa cosa di prima Ora li mettiamo dentro i lingotti Che vi ho detto prima E essendo intelligenti Quando il maceratore è pieno Non richiama altri lingotti Allora One nation One station One trichion Whisklifion Sartirlio Paccartio Strumirlio E Frascherchio Ok Li ho messi tutti Ho dimenticato qualcuno? Frascherchio Ok No l'hai messo Andiamo a vedere il maceratore Guardate Sono già scesi 16 galena Però non partono Perché il copper E dust Occupa l'altro slot Occupando l'altro slot Vedete che non scendono gli altri Non fuoriescono dai tubi Si bloccano automaticamente Ora se io tolgo Logicamente il copper Loro partono a cuocere Tancete Dobbiamo solamente Velocizzarlo Ora Problema Lui ci fa Il galena dust Per esempio Ci fa i dust Ora noi Da qua Faremo fuoriuscire E li porteremo Alla Induction furnace E dalla Induction furnace Torneranno sopra Adesso questa ragazzi Era una prova Per farvi vedere Il funzionamento Io l'impianto Di tutto questo smistamento Lo farei di sopra Che ne dicete? Si Direi di si Che è una bella idea Lo facciamo sopra In modo che Non lo vediamo Il lavoro che fa L'importante Che poi A noi nella cesta Ci vadano già I lingotti belli pronti Però è una figata ragazzi Non lo sapevate Sta cosa Non la sapevo neanche io Sinceramente Per quello Dicevo l'altro giorno Questa mod Non è finito Lo smistamento chest C'è da fare Un sacco di roba Aspettavo appunto Che mi arrivasse Un bel po' di Quarzo Però ammettete Che è una figata ragazzi È una figata È una figata C'è da dirlo Yeah buddy No Cacchio sto combinando Devo mettere dentro Questi qua Ok Noi di Quarzo ragazzi Ne abbiamo veramente Un casino in questo momento Possiamo fare Già un sacco di cose Perché abbiamo 64 di questi Io dovevo messo tutto il quarzo Ah qua dentro Ok guardate quanto quarzo abbiamo In più ne abbiamo un po' qua Dimmi Ti consiglio Se devi fare l'impianto Così di mettere Rotary Rotary Maserator E l'induction furnace Sopra Eh anche Infatti ragazzi Questa era una prova Che vi ho fatto vedere Adesso facciamo i macchinari E lo facciamo Fatto bene sopra Rotary Dai Vabbè è uguale Ormai questo impiantino Lo lasciamo qua Giusto per Se devo cuocere una cosa veloce Vado là Ormai lo lascio Sì 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 Allora Falcraftiamo ragazzi Momento del crafting Rotary Maserator Tanto alla fine ne basta uno Voilà Rotary Maserator serve Un maceratore normale Che lo facciamo subito Tanto abbiamo un fottio di ferro In questo momento Stavo scherzando E invece Guardate Magia Abbiamo un fottio di ferro Bene Lo andiamo a cuocere Facciamo un bel po' di Quella roba lì Ok Poi servirà 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 Abbiamo detto Il Advanced Machine Block Per cui Mi serve Copper e Tin Copper E Tin Oddio Dimmi No mi ha mandato Un messaggio Un certo Semi Scrivendo una cosa Che non ho capito Tipo Devi costruire Devi Lo slug Che produce L'Avarest E puoi mettere Nello slug boiler Che droppa La clay sand Eh Non lo so Non lo so Io non ho capito Cos'è L'utilità Te la metto Rendi la scritta Così la vedi In che te Sì sì Adesso Quattano l'aggo Che lo slug Anzi Vi dirò di più Ragazzi Vi dirò di più Vi dirò di più La corrente di sopra Siccome sopra ci mancherà La corrente La facciamo con il metano Grazie all'impianto Come avete fatto conoscere Voi prima Così Congiungiamo Le mie idee Con le vostre idee Eh Le sono intelligent Mmm Què Cuociamo Ah adesso qua Però continua a cuocere Pirletta Vediamo un po' Se me lo fa veloce Yeah Prendiamo ancora Un po' di carbone Voilà Ok Ah però Il galena dust Non me lo cuoce Perfetto Ma lo trita solamente Perfetto Non serve così Allora qua abbiamo Questo qua da mettere via Perfetto Allora mi serviva Un machine block Machine block Ragazzi Basta fare così Tra l'altro cosa serve Il galena lì? Eh Me l'ha già fatto Non lo so Perfetto Penso sia un materiale Della Gregtech Il galena Si lo so Ma non ho mai capito A cosa servisse Non ne ho idea Per come l'abbiamo impostata A noi non serve a niente Penso Ah tu dici come Il dominio Che è diventato inutile La Gregtech è bella In single player Gregtech è un macello Si ma è divertente C'è nel senso È divertente In single player Te la giochi bella Cioè Madonni Veramente Si Perdi tante ore Però eh Perché io Ah beh questo si Ci ho giocato E solo per fare Un pannello solare Ci ho messo Non so quante ore di gioco E beh per forza Servono diamanti Per fare un maceratore Si vabbè No ma poi La cosa bella Che tu devi fare Per fare il pannello solare Devi fare tipo Una fornace grande Tipo 12 per 3 Per 3 Una cosa immensa Che non ti dico cosa costa Un acciaio E altri materiali Un macello Solo per fare quello Un macello Per cucinare in silicone Per fare i pannelli solari Bellissimo Bello Bello Si Allora maceratore Scusatemi Oh si scusaci Qua si può spegnere Maceratore Poi ho fatto il carbone Yeah Qua ho fatto questi due Qui ha cotto tutto questo Beh parlate se volete Si si Io ero a ragionare sulla Gregtec Il pazzo Che l'ha inventato Io stavo guardando la chat Dicono di cercare un altro guanto Glove of love In 10.000 non capisco perché continuano a scrivere K scrivono Poi c'è sempre un Non mi ricordo chi Che ti dice di guardare Il crafting del diamante Perché è facile da craftare Questo lo dico C'è un mister Eclip Che da 2-3 giorni Ogni volta che vai in live Ti scrive che per craftare Che si può craftare il caffè su Minecraft Lo so Così non serve Che a tua moglie Lo so Glielo sto dicendo Lo so ogni giorno Ma continua a scriverlo Non lo sopporto più Spero di averlo detto E' automaticamente sceso già il lead Tante te Dai veloci cuoci La 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 Edouard glielo ho detto Basta per favore Ok Allora questo qua Questo qua E tutto ferro Questo qua Ok abbiamo fatto il rotary Maserat Attimo Ora facciamo Un'altra induction furnace Induction furnace Che si fa con Electric Electric Fornace Mamma mia che maldischiera Allora Facciamo subito Una fornace Voilà 5 pezzi di ferro Ho finito subito 1 2 3 4 5 Anzi basta andare qua Guardate che pirla Basta fare così 5 pezzi di ferro Una Fornace Abbiamo detto Questa qua Fornace Tante te E Bravo edward Manca la redstone No Cosa manca Ah il circuito Ah ok Tante te No Cosa manca Non lo so Che pirla Che sono ragazzi Sono un pirla Allora Questa qua Ok Ora Li facciamo fare Questa qua Ok Tante te Un altro Advanced Cacchio Non lo so Per cui Altro Carbone Mamma mia Mamma tua Ragazzi purtroppo Quando si craftano Le cose difficili Ci vogliono Molto tempo Di crafting Eh per forza E immaginate Se c'era la Greg Eccolo E in live Non posso neanche dire stop Sì con la Greg Sto impazzendo Eh no Non la crafta La gravity gun Dove craftare Altri overclock Vabbè che tanto Adesso facciamo Quella potenziati Volendo potrei anche Staccare un attimo Suomoceratore E mettere le rotare Cos'è che stai facendo Lì cucinando Io Torno subito Ah le add Ah sì Non capivo Sto blocco Viola Ah due di questi Li abbiamo fatti Andiamo a fare Un machine block Ok Poi mettiamo a cuocere Ste patate Non tutte Perché le altre Devo ripiantare A proposito di ripiantare Andrò a controllare Le piante fuori Mi hanno detto una cosa A proposito Dell'impianto Che hai fatto fuori Che il Fertile Lippad Non funziona Non funziona Con i Xylor Io riporto Quello che mi hanno detto Ma solo con i C2 Anzi Mi ha messo Un punto di domanda Quindi probabilmente Una domanda E cosa c'entra L'IC2 Non lo so Io ti ripeto Quello che mi hanno riferito Ok le piante sono pronte Guardate Voila Ora vedete che ci dà I semi E quelle a foglio Con il crop Dell'IC2 Ho letto male Ora mi servirà Solamente I golem Vedete mi hanno dato Sette foglie Le hanguin clunk Che se le mettiamo All'inventario Ci danno le twine Le prendiamo E le rimettiamo All'inventario Ci daranno il filo Così A quattro Quattro di questi Faranno un filo È solamente filo in più Ragazzi Però è giusto Una cosa Voglio farvi vedere I semi Li ripiantiamo Però Dobbiamo fare la Mi servirà il golem Che mi raccoglie automaticamente Poi grazie ai fabricator Faremo il filo infinito Vi ho fatto vedere Anche sta cosa Ma sulle otto Io avrei anche un po' di fame Ok Voilà Per cui questo Con questo E Sette copper Voila Abbiamo entrambi Ok Poi se vi ricordate Io da qualche parte Avevo fatto Eccoli qua Niente Come l'ho detto Ce li ho Ora Dobbiamo trovare solamente Il posto dove fare Il tutto ciò Io mi staccherei La batbox Mi staccherei Questa roba qui No L'ho persa Cosa Cacchio Si rompeva Con la ruence Sono un coglione Mi vengo a piangere Ci ho messo Quattro giorni Per farla Vabbè La ricraftiamo Allora Stavolta Prendiamo la ruence Questo qua Però mi sa che Boh Vediamo No Ah no Mi serve la ruence Quella rossa Che non abbiamo Vediamo di fare 5 minuti Di api Prima di finire L'episodio Cioè Live Ma le api Dopo le farò Lo stesso Non mi interessa Ma da la gente Che non vuole Allora Mi serve La team Adesso A questo punto A questo punto Del discorso Mi serve La team Mentre cuoce La team Niente Mi serve La team Mi ligo Ok Hai utilizzato Tutto il ferro Nugget Si ma tanto Poi lo rifaccio Che ti accra Ok Ragazzi Basta fare così E' un po' Una stronzata Sta fornace Perché Voilà E mi ritornano Anche la redson Mi ha fatto Guardate Ok E' ritornato Sia redson Che ferro Ok Allora abbiamo La wrench Che dicevo Ora possiamo Togliere Quel macchinario Ok Me l'ha ridato Me l'ha ridato Ora però Dobbiamo ricastare L'altro Come Allora Prima la U Come si chiamava Come si chiamava Come si chiamava Cosa Eh perché Mi ha dato questo pezzo Ma mi ha tolto Il macchinario Qual'era il macchinario Che c'era qua a terra Ah Ehm Il turbine Il gas turbine Quello dice Che ti ha dato Il pezzo Di machine C'è Il pezzo di macchina E' totalmente inutile Ma hai dato un pezzo Che non serve Lo so E' la grec Grec tech Quella C'è quanto il macchinario Ho perso io Giocandoci Ti da quel pezzo Di macchina Che non serve Niente C'è un modo Sicuramente Fatto Per ripigliarlo Ma non lo so Non lo conosco Mi dicono Di usare Too many items Mi aiuto Lo sconsumo No ma ragazzi Se lo metto Nell'uncrafting Me lo ridà No vero No perché l'ho perso Ormai Quello lì però Potrebbe ridarti i pezzi Da quel pezzo di macchina Che sicuramente Lo costruisci Con qualche cosa Andiamo a vedere Dai Tanto non ci costa niente Andiamo a casa di penna Ehi Ciao Randy Ma è FK Dai apri Vediamo un po' Cosa succede No non funziona No non funziona Vaffanculo Non funziona Sì ragazzi Lo riprendo con too many items Perché non c'ho voglia Allora Butto questo E mi riprendo l'altro Anche se questo è un pezzo Della quantum Non scherziamo Che questo qua costa Allora Opzioni Cheat Mi prendo uno di questi E butto questo Tankete Mi dicono che si è bloccato Anzi si è bloccato Non si è bloccato il live Siamo ancora in live Non vi preoccupate Non vi preoccupate Non ve ne andate Ci penso mi Non ci sentono ancora Ad screen region Ci penso mi Non si è bloccato il live Si è bloccato Sì ogni tanto si Crashica Ok ci risiamo Voilà Nuovo giro Nuova corsa Intanto ragazzi Ho fatto il giramento Ho buttato Quello a fare E mi sono ripreso il macchinario Bene Possiamo andare su Finalmente a fare Lo smistamento Cessico E io lo farei Proprio qua Allora Noi abbiamo Questi quattro macchinari Giusto? Abbiamo Questo qua L'industria Al centrifughe Che va a corrente Ma ci serve corrente Ora Mi è venuta Una mezza Ideica Se io Ponessemo Il caso Che io Ponessemo No Ponessemo Il caso Che io Porca loggia Mettiamo la Batbox Per esempio Qua No? Per esempio Pampete Giusto? Giusto Questo qua È l'industria Al centrifughe Che è quello Che ci crea La cosa La mettessi qua Perché dalla Batbox Esce la corrente Per cui lo metto Qua Tanchete Gli mettiamo Un cavetto E dalla Batbox Passa la corrente Là Come portiamo La corrente Alla Batbox Gliela portiamo Con Il gas Turbine Pampete Pampete La corrente Anche se non va Anche se non va Ah Perzzando Ok Ora Poi faremo Una cosa Automatizzata Ragazzi Che arriverà La bistecca Marcia Eccetera Facciamo tutto Automatizzato Qua Bene 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 Un pezzettino L'abbiamo fatto Dalla batbox Mi esce la corrente Mi va qua Poi Siccome Questo qua Crea sempre corrente Non ci interessa Mettiamoci Il Rotary Maserator Lo piazzichiamo Per esempio Qua E L'induction Furnace Pampete Facciamo Due Leve Perché Entrambi i macchinari Vanno a leva Giusto Giusto Ora voglio vedere Se però La corrente Ce la fa E' quello Che mi interessa Se questa corrente Ce la fa Vediamo un po' Ehm Ho fatto una cagata E? No Però forse anche no Perché da qua Potrei fargli arrivare La corrente diretta In questo modo Cacchio per uno Cacchio per uno Cacchio per uno Posso mettergli il copper normale Vediamo un po' Se no Vabbè che abbiamo i diamanti Possiamo fare altri cavi Non è un problema Ma quelli lì Sono alimentabili Direttamente Ma è iniziato Il live Sono arrivato adesso Sì è iniziato Non so quanto fa Un paio d'ore fa almeno Facciamo un po' Mi si è bloccato il mouse Ok Ma quei due lì Sono alimentabili Direttamente Delle MFE O devi per forza Mettere il trasformatore No C'è Serve il trasformatore Che tristezza Ah si Ma adesso Non so se funziona Così l'impianto Ragazzi E' una prova Io purtroppo Non riesco a leggere la chat Allora Mi siano due silver E' una prova Tanto potresti mettere Anche il filo di copper Su quelle Tanto vanno al massimo Massimo a 32 euro Sì sì infatti Non serve di più Eh per quello Ho detto Se andava anche L'energia dell'MFE Perché se non va a quella Potete mettere Qualsiasi cosa No Non lo fa Adesso Basta It's the currently Logicamente Consumerà molto di più Adesso La batbox Si riempirà Vabbè la batbox E' già piena Ha Vediamo un po' Se lì mettiamo Le empty cell Le bistecche Cosa succede Andiamo a prendere Un bel po' di bistecche Giù No ma aspetta un attimo Ma non hai collegato Alla batbox Però così No Ho collegato direttamente Il macchinario Che genera corrente Ah ok Che va sia la batbox Che sotto E' così potente Da tenerli tutti e due Accesi E caricare la batbox Eh no Perché l'altro Non sta funzionando Se non metto le bistecche Non funziona E' per quello Che voglio fare la prova Adesso No ok Ma voglio dire E' così potente Da tenere Il Eh Da tenere Tutti e due Accesi Sia Carne marciale Eh non lo so Sto facendo la prova adesso Toretto Sono andato a prendere Le bistecche apposta Sì no Lo so Lo so Allora Mettiamo le bistecche E Queste qua Vediamo La batbox Stima la 40 Qui Si stanno caricando Però non stanno funzionando Logicamente Vediamo Magari posso mettere A macerare O a cuocere Della terra No aspetta Macerare della terra No cosa si posso macerare La gravel La cobblestone No non si macera Ah beh Ma poi se rimangono sempre accesi Già funzionano Indipendentemente se ci metti qualcosa dentro Guarda L'induction funziona La batbox Rimane più o meno A 40.000 E di canna Abbiamo un po' Voilà Dovrebbe funzionare L'unica cosa è qua Che ci mette molto a fare Una Una empty cell Però tenete conto Che questi macchinari Non andranno sempre Solamente Quando il nostro query Rileva Cioè richiama Dei blocchi da cuocere Allora loro andranno Se no stanno fermi E nel tempo che magari Il query è fermo Eccetera Lui continua a fare corrente E si blocca poi Si ricaricano sempre Ma Quella turbina a gas Lì ha Tipo una batteria All'interno una sua Beh si Qui c'ha qualcosa Da là del gas Ah beh si Ah si si Ah beh Perché l'Uk Non vuole inquinare Capito sul metano Scusate ragazzi Ma io intanto Io mangio Il piatto di pasta Per cui lo scopo Il live Perché ricordate Che questo video Andrà su YouTube Mmm Anzi una cosa migliore ragazzi Stop Andiamo tutti a fare la pappa E ci vediamo tra Un quarto d'ora Sono le 20 e 23 Ci vediamo alle 21 e 45 Che ne dicete Chiamate amici e parenti Ci rivediamo alle 21 e 45 Ah no scusatemi Alle 20 e 45 Tra esattamente un quarto d'ora Il tempo di mangiare un piatto di pasta ragazzi Da Lui che tutti i loro Tutto A dopo A dopo